Sono ancora da chiarire le cause del tragico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri a Trigiano, comune alle porte di Bari. Nello scontro tra un'auto ed uno scooter ha perso la vita un bambino di soli sei anni, Gabriel Battista, che ha battuto violentamente la testa sull'asfalto dopo essere caduto dal mezzo. Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 13 in corso Vittorio Emanuele, una delle strade più trafficate del centro barese. Non ancora accertata l'esatta dinamica dell'incidente, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia locale, tra i primi a giungere sul posto, il piccolo viaggiava in compagnia del padre, un 26enne residente nella vicina Capurso. Il loro mezzo si è scontrato con una lancia Ypsilon guidata da una 45enne di Trigiano. Sembra che i due mezzi stessero imboccando la stessa traversa quando sono entrati in collisione. Ad avere la peggio è stato il bambino, finito poco lontano dal punto dell'impatto. Immediato l'arrivo del personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. In l'ESA la donna alla guida della lancia Ypsilon, mentre il 26enne ha riportato solo lievi ferite, giudicate guaribili in pochi giorni. Sull'asfalto i militari hanno rinvenuto un casco da motociclista. Non è ancora chiaro se fosse indossato dal padre o dal figlio, anche se secondo quanto riferito dai militari, la misura appare poco idonea alla testa di un bambino.